Buonasera, anzi buongiorno perché il video ovviamente lo caricherò domani mattina e ovviamente sono qua e torno con un video dopo è un po' che non pubblico video perché ho saltato l'ultima partita e l'Uventus di venerdì scorso che non l'ho vista e Bayern Monaco-Juventus al ritorno delle ottave di finale di Champions League come posso ricordare che insomma è stato un sorteggio sfavorevole perché abbiamo trovato subito una squadra che non solo è una delle potenziali vincitrici del torneo ma comunque quasi sicuramente tra le prime quattro ci arriva anzi potremmo anche andare in finale quest'anno, non dipende poi dai sorteggi e quant'altro e quindi già è cominciata con questa sfortuna iniziale poi il pareggio in casa è stato sì un pareggio importante perché comunque erano molto aperto però ovviamente avendo un ritorno in casa del Bayern Monaco le cose si complicavano un po' sta di fatto che oggi la partita è stata una partita un po' strana, una partita strana perché il risultato si è stato capovolto almeno per quanto riguarda i tempi regolamentari è stato capovolto rispetto a quello che è stato il risultato dell'andata, cioè noi che vendiamo in vantaggio due gol e ne perdiamo due al contrario di come è stata l'andata in cui il Bayern ci è andato due all'inizio e ne avevamo recuperati due questo però per noi è stato un problema perché comunque andare ai supplementari con una squadra che si verrà già stanca ormai per gli sforzi perché sono mancati tanti uomini importanti perché comunque il Bayern è una squadra che presa alto, è una squadra che fa il gioco tutto il tempo e devi chiudere in ogni buco, ogni spazio altrimenti ti inchiappettano e quindi non stanche ovviamente ai supplementari la resa è stata comprensibile, diciamo, quindi parlando appunto della partita credo che vado divisa in segmenti con un primo tempo splendente, cioè un bellissimo primo tempo a parte di Juventus con carattere, con gioco anzi Allegri ha dato merito della disposizione in campo tattica dei giocatori perché ha fatto veramente il primo tempo e li ha messi in campo in modo migliore non poteva esserci contando anche le assenze importanti che c'erano e nota positiva del primo tempo oltre all'organizzazione di gioco ha un quadrado fenomenale che poi arriva al gol ha un Morata veramente fenomenale che Morata credo migliore in campo oggi lui è il quadrado, insomma poi vedrò nel potere cosa scrivere Morata ha fatto l'assist in quel gol di quadrado che è una stazione bellissima però ha fatto tanto bene tutta la partita io sono veramente contento di questa cosa qua, spero che poi si ripercuota anche nelle successive prestazioni perché è un giocatore che deve risvegliarsi, ritrovarsi e quindi così, primo tempo sprendente, molto bene anche in fase di difensione di tutto quanto secondo tempo invece si capovolge, avviene quello che è avvenuto al contrario, avviene la prima partita primo tempo negativo e secondo tempo miglioramento e questa volta al contrario, appunto il risultato poi lo attesta avevamo preso due gol, tra l'altro, che potevano evitare tra lo scopo del secondo a memoria sta di fatto che, un po' c'è da dire anche che ci sono stati evidenti errori arbitrali uno su tutti è il terzo gol di Morata che era su un 3-0 un fuori gioco che non c'era, non va da centimetri dentro, però non è una scusa, è solo per diritto di cronaca lo dico perché insomma anche all'andata ci sono stati episodi dubbi a favore non nostro ma loro non dico che ovviamente gli episodi, insomma, vado un po' al culo il fatto che gli episodi siano a favore degli altri non dovrebbero mai essere soprattutto pesanti così perché all'andata ci sono stati dei dubbi sulla regolarità dei gol del Bayern e soprattutto questo gol annullato che era palesemente dentro cioè dentro rispetto alla linea Morata e insomma alle cose un po' fa male contando comunque che eravamo in vantaggio e quant'altro con un 3-0 che era una cosa molto diversa da un 2-0 e quello che è successo quindi secondo tempo negativo, i cambi non fruttano benissimo soprattutto perché Maggio che ci non è riformissima poi Sturaro ha fatto anche un errore davanti a porta alla fine che poteva darci il 4-3 tipi sublientari, non che cambiasse quali niente però almeno questo terzo gol avrebbe un po' dato qualche speranza finale e i sublientari, vabbè i sublientari non vanno commentati secondo me in un partito del genere per come siamo arrivati noi perché la squadra era capo fisicamente, era stanca poi il quarto gol, quello di Coman che ha risultato ma anche avesse fatto un gol in finale di Champions League è un gol arrivato su un contropiede partito da un fallo su poco a limite dell'area loro quindi direi che c'è poco da risultare da parte loro almeno avere decenze di tacere in questi casi e portare a casa il risultato che tanto era già arrivato a prescindere in generale cosa dire il sorteggio sfigato il sorteggio sfigato però che viene da una colpa nostra diretta quella della qualificazione al terri finale di Champions League attraverso passando per un secondo posto nel girone mangiandosi soprattutto oltre le partite con Dortmund con l'altro Borussia che abbiamo pareggiato con Siviglia non si doveva perdere si doveva arrivare i primi e abbiamo trovato una squadra che adesso ha il Manchester City che pare che sia la Dinamo Kiev una squadra talmente scarsa che neanche non mi ricordo invece abbiamo trovato il Bayern quindi la sfortuna è legata a una colpa la fortuna è una cosa che non esiste si fa la di fortuna ma in realtà è tutto legato a colpe di qualcuno merito dei meriti nostri poi ovviamente una squadra fortissima all'andata ci siamo ci sono delle errori arbitrali che comunque non sono pesate fuori del nostro ma fuori del loro che marginalmente c'entrano cioè quando si attende una partita non bisogna sempre dare la colpa all'arbitro ma comunque i minori vanno evidenziati è giusto evidenziarli ma nel contesto quindi se giochi male comunque poi te lo meriti di perdere anche se ti hanno annullato un gol regolare comunque il Bayern in 180 minuti più di 30 che sono dei supplementari ha fatto vedere che hai una squadra fortissima e che c'è poco da fare più forti di noi non solo per il day di gioco ma anche in alcuni casi per il reparto offensivo soprattutto fuori da ogni dubbio detto questo io resto comunque orgoglioso di Allegri della sua squadra perché il carattere che c'è stato si è visto a sprazzi non totalmente nell'arco dei tutti i minori giocati si è visto e io credo che sia di buon auspicio magari intanto per il campionato perché nel smooth tranquillo abbiamo solo campionato da giocare e abbiamo una panchina lunghissima che ci permette di far cambi e di far riposare tutti e far giocare tutti dal top ma soprattutto mi fa ben sperare per il prossimo anno e il futuro una squadra ancora in modifica perché qualcuno andrà via qualcuno arriverà ma con una consapevolezza e una maturità europea siccome è crescente dopo una finale di Champions League come quella del scorso anno e quest'anno per qualcosa abbiamo confermato questa cosa qua e ovviamente proviamo comunque a fare il meglio e speriamo di evitare di fare errori assurdi come quelli fatti nei gironi che poi ci porterebbero a questi questi sorteggi sfavorevoli anche per loro anche per il Bayern Monaco sarebbe stato sfavorevole perché a un certo punto potevano anche noi passare per il Bayern Monaco una squadra che punta sempre al massimo su tutto sarebbe stato anche forse più tragico che per noi stessi insomma quindi adesso pensiamo alla prossima partita che è domenica pomeriggio e il derby di Torino è facile sulla carta perché il Torino non se la passa bene ma quelli fanno la partita della vita e possono inquietarci pure loro anche se non sembrerebbe quindi ci vediamo verso sera credo che arriverà il video contro il Torino però intanto pensiamo a questo insomma questo video qua lo so direttamente a sera infatti la luce non è delle migliori però ovviamente arriverà solo nella mattinata quindi a domenica e a prescindere forse di... ah una cosa oggi ho visto la partita del bullying qua vicino a casa mia c'erano decine di persone forse anche e io ho seguito non per contarmi io ho seguito la partita fino alla fine fino al 123 quindi quattroesimo quello che era perché credo che alla fine la squadra vada sostenuta e non è... è troppo facile guardarla fin tanto che gioca bene e fa gol sta vincendo ma credo sia giusto anche anche se il supporto mio è un supporto indiretto perché certo non mi sentono non mi vedono e non mi frega anche niente ai giocatori che stanno giocando a Monaco insomma le pareti me le guardavo fino alla fine perché giusto così anche per rispetto di... rispetto così la mia cultura sportiva ecco detto questo era una piccola parentesi quindi... ah ovviamente ha sempre questo bullying visto che ci sono non dico quello che sono c'erano i guffi che secondo me qualche colpa c'erano pure loro sull'egito della partita e sì io vorrei ricordare a queste persone qua con questo molto rispetto che le loro squadre sono altrove non ci sono mai state in competizione del genere almeno per gli ultimi 3-4 anni così che vorrei anche per intendere intende a tutti gli altri in campo ciao alla prossima grazie a tutti